tanti i temi affrontati da raffaele pesce candidato del movimento civico liberi e forti ospite del programma c'è posto per te andato in onda ieri sera su cilento channel e su facebook seguitissima la diretta tv e social con tanti cittadini che hanno sollecitato pesce sui punti del suo programma e sulla scelta civica che alla base del suo progetto amministrativo sì noi abbiamo lavorato alla costituzione di un movimento civico ci abbiamo messo ci abbiamo impiegato del tempo abbiamo lavorato per capire bene quelle che fossero le intenzioni di tanti amici concrete per una eventuale candidatura ma contemporaneamente abbiamo fatto una pre campagna elettorale siamo andato in giro per i quartieri di agrovoli per le contrade a verificare quello che lo stato in cui versano e quelle che possono essere le soluzioni quindi parlando con i cittadini che vivono le zone ovviamente il centro lo conosciamo bene perché lo viviamo voglio dire la scommessa di tramutare il movimento civico in due liste che concorrono per le prossime amministrative è stata una scelta di coraggio anche di abnegazione perché noi siamo partiti da zero voglio dire nessuno di noi esce da questa amministrazione nessuno credeva dici tu nella potenzialità che invece abbiamo espresso noi ne eravamo coscienti perché il malcontento è forte la vicinanza a quella che è la nostra base ideale che è la libertà e la giustizia sociale ha trovato riscontro la tutela ambientale il sentirsi agropolesi a prescindere dalle origini o meno di famiglie agropolesi perché io dico sempre agropolesi chiama agropoli quindi riscontro c'è stato non abbiamo avuto difficoltà a proporre due liste pesce si è soffermato anche sui temi centrali quali il turismo la sicurezza e l'ospedale rivendicando l'assoluta autonomia da decisori politici esterni allora noi dobbiamo partire da una gestione da una programmazione turistica seria da città di 25 mila abitanti che ne arriva a 70 mila e più d'estate ma che anche centro di un'area turistica molto più grande quindi dobbiamo offrire servizi adeguati ai turisti dobbiamo puntare su un turismo che non è soltanto quello balneare che è fondamentale non possiamo negare che la prima forza attrattiva è ancora il mare nonostante le devastazioni che ci sono state voglio dire turismo culturale che si può fare tutto l'anno turismo nautico e quindi un piano sul porto di implementazione di un piano strategico dico io dei servizi perché il porto non è solo il porto di agropoli ma il porto porta del cilento che tra due aree archeologiche che sono patrimonio dell'umanità pestum e velia essere consapevoli della nostra importanza centrale tra queste due aree nel parco nazionale del cilento patrimonio unesco ma bio sfera e quindi politiche che facciano arrivare turisti diversi interessati alla natura al mare all'ambiente alla nostra storia la dieta mediterranea quanto riguarda la sicurezza noi abbiamo in mente di creare una centrale unica per la sicurezza col continuo colloquio proprio una sede fisica centrale nella sicurezza dove ci dove ci potrà essere la presenza delle forze dell'ordine che abbiamo la fortuna di avere ancora sul territorio ma per quanto riguarda la sicurezza stradale e faccio riferimento a quello che ho detto prima più parcheggi meno uso di automobili nel centro cittadino e anche facendo in modo che i cittadini si rendano conto che l'uso di adeguati mezzi pubblici come rete su tutto il territorio è anche meno stressante e chiederei da sindaco ai ministeri di competenza per il tramite della catena gerarchica di rafforzare la presenza quindi di dare manforte alla compagnia con uomini e mezzi in questo caso i carabinieri farei solleciterei anche corsi di aggiornamento per gli uomini del corpo della polizia locale e nelle facoltà del comune è chiaro che dobbiamo avere una visione territoriale dell'ospedale non possiamo pensare che possa essere un ospedale diciamo come si costruivano negli anni 70 da noi non si sono costruiti ma deve avere una capacità territoriale con settori diversi che dislocati tra Vallo, Agropoli, Rocca d'Aspire noi dobbiamo ragionare come Cilento se no promettiamo cose impossibili io come movimento civico ritornando al problema dei partiti centrodestra e centrosinistra potrò mettere i pugni sul tavolo sia con amministrazione di un colore che di un altro perché penso che la sanità è la cosa pubblica quindi trasporti e sanità che devono rimanere essenzialmente pubblici non debbano avere connotazione politica. Che dire? Combatteremo, lavoreremo perché ci sia un adeguato pronto soccorso ma un pronto soccorso sappiamo che deve avere radiologia, la traumatologia, l'ortopedia, la medicina d'urgenza, la medicina interna non è semplice quindi quando sento intervenire in questo discorso l'anima populistica che promette veramente mortifica questo metodo politico mortifica i cittadini a mio avviso perché la sanità è una cosa molto seria. Noi come ente unitamente agli altri comuni limitrofi saremo un baluardo alla difesa di quello che resta ma proporremo di rafforzarlo ma dobbiamo essere coscienti che al momento è la regione che deve intervenire. In conclusione ha ribadito la convinzione di andare al ballottaggio. In caso di ballottaggio chi appoggia? Ovviamente Raffaele. Noi saremo a ballottaggio. Noi saremo a ballottaggio quindi perché ne sono convinto mi dà la forza la gente che mi avvicina, le persone quindi saremo al ballottaggio. E chi appoggia? Raffaele Vesce chiedono. Noi saremo al ballottaggio. È una scelta. Poi le dinamiche di questa campagna elettorale le scopriremo. Valuteremo quelli che sono i programmi ma questo se malauratamente i cittadini non reputano di premiarci con il voto ma dato che i cittadini stanno prendendo atto che è l'unica linea costante in questi mesi di coerenza è la nostra. Io sono sicuro che allo spoglio, all'apertura delle urne noi saremo al ballottaggio.